ciao amore ciao ho due notizie per te una buona e una cattiva allora inizio con quella buona tieni la tua macchina e volevo dirti che gli airbag funzionano benissimo amore che c'è mi senti se bene amore senti amore stasera esco con le amiche che il problema c'è che ti devo dare dei soldi non solo ti farò tardi non c'è problema basta che mi chiami io ti vengo a prendere lo sai ho portato il caffettino vado un attimo al bambino torno subito ok va bene ehi amore sei tornato veramente ho passato un po' di anni amore non riesco a dormire che mi interessa non mi ne frega niente lo stipendio in casa lo porto solo io punto e basta perciò se devo andare con le amici per una settimana ci vado ok questo è detto francesco a sua moglie guardandolo agli occhi mamma mia non ci posso credere ti rendi conto impressionante che devo pulire lì sotto il tavolo in cucina amore